La squadra 8 Alpio, hai già ordinato lo champagne per Tania e Sergio? No Ecco, allora ordino va, che abbiamo trovato chi ci lo paga Sono io No, mo pago io No, mo pago io No, mo pago io Se pensavano di fermarci, si sono sbagliati Ci hanno tolto un amico, un fratello, un pezzo di noi Ma hanno fatto male i loro conti perché noi li prenderemo Fosse anche l'ultima cosa che facciamo Li prenderemo No, mo pago io No, mo pago io E' un briefing Scusa non mi dispiace non ci andiamo Sarò io, mia regina Per dire che è il destino che mi tiene lontano da lei Amato Basta ragazzi Fattiglia, fare tutto Mettitelo bene in testa, Valle Questo mestiere si fa dell'ammonnezza E tu quando stai in ammonnezza puzza Amato No, noi dobbiamo essere i primi a rispettare la giustizia Ale Quando puzzi Gli unici che sopportano il tuo fedore Sono i colleghi che puzzano con Mattei Seggio era una persona straordinaria Uno dei migliori poliziotti che abbia mai conosciuto Pieno di umanità Briefing in inglese significa riunione In italiano significa cappalla Ma capito? Tenace, coraggioso Provi tosto, tosto, tosto Non riesco ad essere tanto forte Chi ha commesso questo delitto atroce e vigliacco Non merita il mio perdono E' bravo dottore Grazie Volevo dire bene, no? Proprio tosto, tosto, tosto Proprio tosto, tosto Proprio tosto, tosto, tosto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.